Il VCOG2 decessi covid positivi, 7 nel Novarese, da lunedì allestimento di ospedale da campo a Borgo Manero e Novara. Nuova riorganizzazione ASL-VCO, sospesi chirurgie ordinarie anche a Domo, visite non rugenti e punto di primo intervento di Omegna. Il sindaco Marchionini, il virus accelera anche a Verbagna, dove i contagiati attualmente sono saliti a quota 150. Aperitivo con musica nel pomeriggio, chiuso un locale a Pallanza, si tratta del bar Lago, in Largo Tonolli. Miniere d'oro della Valle Antrona, una straordinaria scoperta, quella della Galleria Fantasma, ve la mostriamo. Abreganza Elisa Longoborghini domina il campionato italiano e corona con un meritato successo, una stagione ad altissimo livello. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizia. In apertura di giornale la situazione coronavirus. Dobbiamo purtroppo riferirvi di due decessi covid positivi oggi nel VCO. Al momento uno solo è stato registrato dal sistema dedicato della regione Piemonte. Si tratta di due uomini di 92 e 73 anni. I nuovi positivi sono 94, 8 i guariti. Nel Novarese registrati ben 7 nuovi decessi, 136 positivi più di ieri e 13 guariti. In Piemonte i nuovi decessi sono 28, 2887 i positivi, dei quali il 42% asintomatici, una percentuale che si abbassa leggermente. Oltre 15.000 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. Crescono di 15 persone i ricoverati in terapia intensiva. In totale al momento sono 174. Crescono di 136 i positivi ricoverati negli altri reparti. In totale sono 2.683. Lo scenario che si configura è simile a quello purtroppo di questa primavera per le nostre strutture sanitarie. Nuova riorganizzazione dell'Asla VCO. Sospesi gli interventi chirurgici ordinari, oltre che a Verbania, anche a Domodossola. Sospese le prestazioni ambulatoriali meno urgenti. Sospesa da lunedì l'attività del punto di primo intervento di Omenia. L'Asla VCO applica le misure urgenti previste dalla Regione per la gestione dell'emergenza da SARS-CoV-2 e l'unità di gestione Covid-19 dell'Asla VCO che la Direzione Generale ha più volte convocato in questa settimana ha assunto conseguenti decisioni relativamente all'organizzazione dei servizi sanitari. Continua la sospensione nei presidiospedalieri di Verbania e Domodossola degli interventi chirurgici ordinari. Rimangono garantiti gli interventi chirurgici urgenti, quelli salvavita e quelli di tipo oncologico. Sono sospese le prestazioni ambulatoriali, visite e prestazioni diagnostiche di classe D e P. Questi utenti saranno ricontattati per l'individuazione di una nuova data. Rimangono garantite le prestazioni urgenti di classe U entro le 72 ore e le prestazioni non differibili di classe B entro 10 giorni. È sospesa da lunedì 2 novembre l'attività del punto di primo intervento dell'ospedale Madonna del Popolo di Omenia come previsto per alcuni pronto soccorso del Piemonte con la prospettiva di impiegare al meglio le risorse umane per attivare ulteriori posti letto Covid. Presso i punti prelievo di Domodossola, Verbania e Omenia l'accesso è garantito con prenotazione. L'accesso diretto è consentito solo ai pazienti con impegnativa con priorità di classe U e B e per i pazienti in terapia anticoagulante orale Tau. Va ricordato che a idea di Verbania e Domodossola sono attivi i servizi di pre-triage come all'ingresso degli ospedali. L'invito ai cittadini è comunque di recarsi in ospedale a idea solo per effettive esigenze e urgenze. Soprattutto i cittadini asintomatici che sono entrati in contatto con persone positive devono contattare il proprio medico di famiglia o pediatri di libera scelta oppure contattare il servizio di igiene pubblica evitando di recarsi ai pronto soccorso. Prosegue la collaborazione con l'Eremo di Miazzine, con il centro oxologico di Piancavallo e con il centro ortopedico di Quadrante che hanno confermato la messa a disposizione di posti letto per l'adegenza di pazienti Covid positivi. Da lunedì 2 novembre sarà a disposizione la struttura alberghiera di Macugnaga giudicataria dell'avviso pubblicato la scorsa primavera dall'ASL idonea al servizio di accoglienza residenziale per soggetti positivi posti in quarantena. Per meglio far fronte alla situazione, oltre alle USCA presenti nel Verbano e nell'Ossola sarà attivata un'unità a Domenia per il territorio del Cusio. L'ASL ringrazia i cittadini per la collaborazione che sapranno assicurare e ribadisce l'importanza di attenersi alle misure di prevenzione del contagio. La direzione ringrazia tutti gli operatori impegnati nell'emergenza ad SARS-CoV-2 per l'impegno e la dedizione che stanno ancora una volta dimostrando. E sull'apertura dell'albergo Covid di Macugnaga, le ire del sindaco Stefano Corsi. A maggio in una riunione con i cinque sindaci della Valle, l'ASL aveva assicurato che non avrebbero preso in considerazione il reparto Covid perché siamo una stazione turistica in quota, spiega Corsi facendosi interprete della preoccupazione in paese. Ci piacerebbe anche essere informati, aggiunge dicendo di aver ricevuto spiegazioni sulla apertura solo dopo una sua lettera dei giorni scorsi inviata all'azienda sanitaria. Ed ora siamo alla situazione nel Novarese, a Borgomanero, allestimento di un ospedale da campo per alleggerire il nosocomio cittadino e così a Novara. E poi ci sono due lutti nel Vergante. Lunedì 2 novembre, per ridurre la pressione ospedaliera dovuta al coronavirus, verrà allestito un ospedale da campo militare da parte della Brigata Alpina Taurinense dell'Esercito nello spazio esterno decente all'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero. Sarà realizzato grazie alla collaborazione tra la Regione Piemonte e le Forze Armate Italiane appunto della Taurinense. Una tensostruttura simile sarà realizzata pure nelle adiacenze dell'ospedale Maggiore di Novara. Saranno due moduli identici in grado di accogliere 14 letti ciascuno. Ogni ospedale gestirà la situazione e potrà decidere la destinazione d'uso e l'occupazione con pazienti Covid-19 in base alla specifica necessità. La finalità primaria è quella di ridurre la pressione dei reparti e del pronto soccorso. L'iniziativa si configura nell'ambito del progetto di supporto alla sanità nazionale voluto dal Ministero della Difesa in sintonia appunto con il Ministero della Sanità. Intanto si registra la scomparsa di due figure imprenditoriali del Vergante a causa del coronavirus. Abitava nel B1 del fondatore e gestore del ristorante alla Pagoda Valeriano Carini, 85 anni, deceduto all'ospedale di Borgomanero. Sua creazione è il tipico chalet realizzato ancora negli anni 70 in località Poggio Radioso. Lascia tre figli e cinque nipoti, dai 5 ai 22 anni. A Massino Visconti è scomparso a soli 55 anni, Giampaolo Rossi era titolare di un'azienda agricola alle porte del sud di Massino, in fregio alla strada provinciale dell'Alto Vergante. Importante allevatore di bovini e pecore, era molto conosciuto anche per la sua pregiata attività casearia. Accanto all'azienda era stato attivato anche un raffinato agriturismo. Lascia una figlia e l'anziana mamma. Il pensiero del sindaco di Massino Antonio Iroldi è di Nebbiuno Elis Biaterra. Il Vergante perde due importanti figure, che erano apprezzate per la loro laboriosità, due appassionati e instancabili lavoratori. È di ieri sera l'ordinanza di Cirio che eleva fino al 100% la didattica a distanza per le scuole superiori in Piemonte, da lunedì provvedimento che era già stato preso per il VCO e fissa la capienza massima dei trasporti pubblici di competenza al 50%. Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, riduzione al 50% della capienza dei mezzi pubblici e smart working al 75% fisso negli uffici regionali, salvo il personale addetto alle emergenze a partire da lunedì 2 novembre. È quanto previsto dalla nuova ordinanza a contrasto della diffusione del coronavirus firmata dal presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio. Si tratta di intervenire in maniera chirurgica per scongiurare interventi più grandi. Noi non vogliamo un lockdown per il Piemonte. Se guardate i dati capite anche il perché. La fascia più alta come positivi che noi abbiamo in Piemonte sono i ragazzi tra i 14 e i 18 anni. E non perché il virus si prende a scuola, ma il virus si prende quando vai a scuola e quando torni a casa. E questo è il motivo di un combinato tra un'ordinanza che riduce da una parte la popolazione scolastica di oltre 170 mila unità, dall'altra parte riduce la capacità di trasporto del sistema del trasporto pubblico, ma interviene anche sui lavoratori dipendenti. L'ordinanza è valida fino al 24 novembre. Una situazione preoccupante. Dunque oggi appello video del sindaco di Verbania, Silvia Marchionini. Il Piemonte da ormai questa settimana si colloca ai primi posti fra le regioni più colpite dal numero di contagi giornalieri. E questa accelerazione coinvolge anche la città di Verbania, che ha raggiunto i 150 positivi. Infatti ognuno di noi conosce qualcuno che si è ammalato, qualcuno che è in attesa del tampone, qualcuno che è in isolamento, qualcuno che ha paura per la propria salute o per la propria situazione economica. Quindi siamo nel mezzo di una nuova ondata pandemica che ci fa innanzitutto pensare a che cosa non è stato fatto in questi mesi per farci trovare preparati. Ma accanto a questa naturale valutazione occorre che ognuno di noi presti la massima attenzione, sia prudente, rispetti le norme igienico-sanitarie, indossi la mascherina, eviti assembramenti e contatti e soprattutto che traduca la propria libertà in responsabilità e collaborazione. Nuovamente il personale sanitario è chiamato uno sforzo straordinario. Lo stesso riguarda i medici di famiglia. L'ospedale Castelli sta offrendo le cure più adeguate a quanti si ammalano. Un pensiero occorre anche rivolgerlo alle famiglie e agli studenti che da lunedì torneranno in modo completo alla didattica a distanza. Come comune pensiamo tempestivamente distanziare le risorse nei limiti delle nostre possibilità per sostenere, col fondo Verbagna Solidale, le imprese in difficoltà, cioè coloro che rischiano di chiudere per le troppe spese a fine anno. Un intervento mirato, sentendo le associazioni di categorie con la regia della Prefettura, per aiutare in chi versi in una condizione documentata di sofferenza economica. Questo si aggiunge agli indennizi che il Governo ha stanziato. Sappiamo benissimo che le istanze di famiglie e imprese sono le più diversificate. Cercheremo di corrispondere al meglio delle nostre possibilità. Resta attivo il numero dedicato 0-323-542-488 per ogni richiesta, per ogni necessità. E aperitivo con musica a pallanza senza il rispetto delle norme anticontagio. Sono intervenute le forze dell'ordine e il locale è stato chiuso. Aperitivo con musica nel pomeriggio, chiuso un locale a pallanza. Si tratta del Bar Lago in Largo Tonolli. Musica e diversi giovani che bevevano all'esterno e all'interno hanno attirato l'attenzione dei passanti, che anche alla luce delle ultime preoccupanti notizie sui contagi, alla vista della scena hanno chiamato le forze dell'ordine. In pochi istanti sono arrivati sul posto gli uomini della Polizia Municipale Verbanese. Gli agenti del comandante Andrea Cabassa hanno riscontrato irregolarità rispetto alla prescrizione della normativa anti-Covid e hanno disposto la chiusura del locale. Sabato scorso, prima che entrasse in vigore l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ne erano stati chiusi altri tre. I controlli andranno quindi avanti per tutto il weekend, proprio nel giorno in cui il sindaco Silvia Marchionini ha chiesto ai cittadini un comportamento responsabile data l'impennata dei contagi che potrebbe portare a ulteriori restrizioni. Questa provincia ora con i canoni idrici può riorganizzarsi e avere disponibilità per grandi progetti con altri partner. Lo ha spiegato il Presidente Lincio al Sasso nello Stagno. Il settimanale condotto da Maurizio De Paoli torna anche domani, domenica, alle 14. Questa settimana ospite della puntata del Sasso nello Stagno è stato il Presidente della provincia del Verbano Cusiossola, Dottor Arturo Lincio, al quale tra l'altro abbiamo chiesto se è contento, visto che finalmente sembra che le vacche magre siano finite, arrivano le vacche magari non grasse ma un po' più in salute, perché? Perché finalmente la regione ha deciso di trasferire i canoni idrici direttamente alla nostra provincia, una parte consistente, si parla di circa 16 milioni di euro. Presidente, la provincia del VCO rinasce? Beh, diciamo che ha conquistato comunque una sua piccola autonomia, sulla via dell'autonomia. Io poi l'ho vissuta dai tempi dell'Europa, con Corradini e la squadra dei coraggiosi di allora, e i risultati si raccolgono anche insistendo negli anni e riproponendo certi aspetti che sono fondamentali per il territorio. Questa possibilità appunto che è costante e fissa degli anni, non è un unatantum, certamente consente alla provincia di riorganizzarsi, soprattutto come uffici, e quindi con una forza e capacità di lavoro, e riorganizzarsi anche, perché si tratta ovviamente, come in tutti gli enti pubblici, di dare una maggior funzionalità e di dare una maggior snellezza a tutti i procedimenti, naturalmente per quello che è possibile, perché le norme non le facciamo noi, e quindi però è possibile anche collaborare, come stiamo facendo con le altre province piemontesi, per avere le revisioni di norme che non sono attuali. E poi per avere disponibilità per grandi progetti, noi abbiamo come partner sia il Canton Vallese, sia la Regio Insubria, quindi con... E finalmente non andrete là sempre con le tasche vuote, avrete finalmente... Esatto, non andremo là soltanto a dire belli parole, per poi dire però non possiamo partecipare a questo interreg, perché non abbiamo la nostra quota a parte, non possiamo dire, non possiamo partecipare a questi regolamenti, perché lo faremo quando ci arriveranno i soldi. Adesso è ancora un anno di carestia, perché insomma dobbiamo pagare tutti i debiti delle precedenti amministrazioni, fatti ovviamente per tenere le strade pulite e le scuole aperte, perché non è che siano stati... Però, insomma... Pagati i debiti... Però la prospettiva è finalmente di poter creare qualcosa di molto importante per questo territorio. Grazie Presidente. Grazie. Ad esecui e avvenute la famiglia ha annunciato la scomparsa di Luciano del Torchio, nome di battaglia Turcet, presidente della sezione Ampi Carlo Barberi di Arona. Aveva partecipato, seppur molto giovane, alla battaglia di Arona come staffetta e portatori di viveri e altre operazioni dei partigiani del Basso Verbano e Vergante per combattere i nazifascisti. La Casa dell'Anziano di Baveno, intitolata Chiara Mattazzi, ieri la Santa Messa riservata agli ospiti della struttura, e poi la sobria cerimonia di intitolazione. Con una cerimonia sobria, come purtroppo richiedono i tempi che stiamo vivendo, la Casa dell'Anziano di Baveno è stata intitolata ieri pomeriggio all'ex amministratrice Chiara Mattazzi, scomparsa lo scorso 28 giugno. L'intitolazione è stata preceduta dalla messa, celebrata dal parroco Don Giuseppe Volpati per i soli ospiti della struttura. La proposta di intitolazione era stata presentata dall'allora sindaco Maria Rosa Gnocchi in Consiglio Comunale il 16 luglio, sottoscritta da tutti i sindaci emeriti di Baveno, dal parroco, dall'Associazione di Solidarietà Sociale, dalla Caritas e dalla Croce Rossa. In deroga ai tempi solitamente previsti per l'approvazione, il via libera della prefettura è arrivato il 7 di ottobre. Ci sono persone che nel silenzio laborioso, senza clamore, con umiltà, hanno dedicato la vita, tutta la vita, giorno per giorno, a servizio della propria comunità. Il loro passaggio ha reso il mondo migliore, si legge nelle motivazioni dell'intitolazione. Chiara Mattazzi è il forte esempio di un costante impegno che può dare solo chi è sostenuto da forte passione civile e sociale, da fede profonda, da solidi valori. Continua il progetto di valorizzazione delle antiche miniere d'oro della Valle Antrona a fini turistici e culturali. E dei giorni scorsi una nuova scoperta, quella che gli speleologi hanno chiamato la Galleria Fantasma. Sono saliti in elicottero a 2000 metri di quota. Tonnellate d'oro non scavate è una galleria fantasma che collegherebbe attraverso pozzi, scale e discenderie, direttamente nel filone aurifero, le principali miniere alte della Valle Antrona con quelle più basse, un salto di 600 metri di labirinto nel ventre della montagna. È l'ultima scoperta del team Underground Adventures con gli speleologi Matteo Di Gioia e Marco Zanzottera, che con Lucia e Massimo Gagliardini di valleantrona.com da tempo sono impegnati per cercare di valorizzare questo patrimonio. Miniere risalenti anche al 1700, delle quali davvero poco si sapeva. Il riferimento sono spesso antichi documenti tecnici custoditi in archivi storici specializzati. È servito un elicottero per raggiungere il luogo di accesso segreto che solo il team conosce, con quasi 100 kg di attrezzatura per essere pronti già alle prime ore del mattino a iniziare la spedizione. Quattro i componenti del team, tutti esperti a caccia della galleria fantasma, si sono inoltrati in zone instabili e per questione di sicurezza si sono più volte separati affinché se qualcuno fosse rimasto bloccato sotto gli altri sarebbero stati al sicuro e in grado di uscire. Durante la discesa, spiega Matteo Di Gioia, trovata un'ampia sala in cui la potenza, ovvero la larghezza del filone aurifero, probabilmente andava oltre i due metri ed ora è interamente soppalcata. In prossimità di questi soppalchi parte del filone aurifero si presenta non scavato e ancora ricco d'oro. Dopo circa cinque ore attraverso le faglie della roccia e i vuoti lasciati dai minatori, raggiunta quella che gli antichi documenti solo accennavano e che i nostri speleologi hanno soprannominato la galleria fantasma. Qui lo straordinario ritrovamento di reperti, badili, tubi, valvole e diverse scritte sulla roccia, lasciati dai minatori con le lampade a carburo risalenti agli anni venti. Ma la sorpresa più grande è ancora al suo posto sui binari, così come l'ha lasciato l'ultimo minatore, è un carrello in tutta la sua ruvida bellezza. Dopo aver sfruttato fino all'ultimo centimetro i 120 metri di corda a disposizione del team, la risalita è in superficie. La galleria fantasma è stata così trovata, ma ancora non del tutto esplorata. I nostri speleologi torneranno in primavera. Sono servite nove ore di esplorazione all'interno della miniera e tre ore di cammino per scendere a valle. Con questa scoperta della galleria fantasma, il complesso minerario della Valle Antrona è tre volte più esteso di quanto si ipotizzava fino ad ora. Siamo alla pagina sportiva con il ciclismo. Vittoria in solitudine per Elisa Longoborghini, che stravince il campionato italiano delle donne elite. Elisa Longoborghini è campione d'Italia. Breganze ha incoronato l'ornavassese, che in gara nel campionato italiano delle donne elite con la maglia delle fiamme oro Polizia di Stato, ha letteralmente devastato la corsa andando a vincere in perfetta solitudine con un vantaggio superiore al minuto su Katia Ragusa della Leci Pollini e Marta Cavalli delle fiamme oro Polizia di Stato, la sua seconda maglia tricoronellina della carriera, facendo doppietta con quella della cronometro vinta in agosto per la quarta volta. La corsa si è decisa al penultimo passaggio sulla salita di Sarcedo, curiosamente proprio dove Francesca Barale ha vinto il titolo delle Juniors. Davanti ci sono 20 atlete. Allunga la talentuosa cuneese Elisa Balsamo, oppure lei in Polizia. Ovvio che sia un attacco d'appoggio ad Elisa, che infatti scatta in salita. Ne resistono solo la Veneta Ragusa e la Piacentina Cavalli, altra compagna di Elisa. Anche loro all'ultimo giro però possono poco. Longo Borghini va via da sola e guadagna subito una ventina di secondi. La coppia che insegue si arrende, un po' perché l'ornavassese va davvero forte, un po' perché Marta Cavalli corre anch'essa con la formazione della Polizia e dunque copre la fuga. Prima e da braccia alzate Elisa corona con una sacrosanta soddisfazione, un'annata di corse particolare che dalla ripartenza di luglio l'ha sempre vista comunque lottare al vertice praticamente in tutti gli appuntamenti. Dopo il secondo posto agli europei, dopo il terzo posto ai mondiali, finalmente un successo di quelli pesanti. Un tricolore che resterà per un anno sulle spalle della migliore italiana della stagione. E questo è un dato di fatto davanti a due atlete che hanno confermato di essere alquanto competitive. Non male il tricolore degli atleti di questa terra in questo tormentato 2020. Filippo Ganna tricolore della cronometro, Francesca Barale tricolore Juniores in linea, Elisa Longoborghini tricolore Crono e Strada. No, davvero non male. Ed ora i motori, Simone Miele si è aggiudicato per la quarta volta di seguito il rally del Rubinetto. Simone Miele e Marco Cerutti su DSC3 Citroen WRC si sono aggiudicati la 27esima edizione del rally del Rubinetto. Il pilota di Olgiate Olona, che si è aggiudicato per la quarta volta consecutiva alla gara, ha vinto 5 delle 6 prove speciali in programma. Il rally organizzato dalla New Turbo Mark di Peppe Zagami è scattato questa mattina da San Maurizio do Paglio. Due le prove speciali in programma, la città di Borgosesia di 7,5 km, e la Mottarone Gianni Piola di 9,2 km, entrambe ripetute per tre volte. La gara era chiusa al pubblico per ottemperare le norme anti-Covid. Con la vittoria di oggi Simone Miele si è prontamente riscattato dopo lo sfortunato epilogo del campionato italiano rally VRC, che ha concluso al terzo posto dopo essere uscito di strada nell'ultima gara, quando era in testa alla classifica. Sul podio, dietro l'equipaggio Miele Cerutti, le due Skoda Fabia Evo, di Bottarelli Pasini, vincitori dell'ultima prova speciale, e di Pinzano Passone. Davide Caffoni, che il rally Cusiano lo ha vinto due volte, ha chiuso al quarto posto, a 48 secondi dal vincitore. Archiviato il rubinetto, il prossimo appuntamento per gli appassionati di motori è fissato nel weekend del 14-15 novembre, con la 56esima edizione del rally Valle Ossolane. Siamo in chiusura di giornale. Prima dei saluti, vi ricordo la riorganizzazione in corso a livello di azienda sanitaria del VCO, a livello di ospedali, proprio per fare fronte all'aumento dei contagi del quale vi abbiamo riferito. Riorganizzazione che vedrà da lunedì la chiusura, la sospensione del punto di primo intervento dell'ospedale Madonna del Popolo di Omenia. E poi sospensione dell'attività chirurgica ordinaria, oltre che a Verbagna, così come da qualche giorno, anche all'ospedale di Domodossola. Ricordiamo che sono e saranno ricavati posti letto covid nuovi all'erimo di Miazzina, all'ospedale San Giuseppe dell'Auxologico di Piancavallo e ancora al COC di Omenia, apertura che ha fatto anche discutere dell'albergo covid a Macugnaga. Per quanto riguarda invece le prestazioni ambulatoriali diagnostiche, sono sospese quelle non urgenti. Nel territorio del Novarese, da lunedì, l'allestimento di un ospedale da campo a supporto dei nosocomi cittadini a Borgomanero e a Novara. E questo è tutto per tutti gli aggiornamenti vcoazzurratv.it. Grazie per essere stati con noi, ci sono anche le nostre pagine social. Buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti.